Ciao Ripo, ho visto il tuo update di ottobre. Considerando che il tuo portfoglio è all'incirca 60-40, perché non spendi direttamente un life strategy di 60-40? Ci sta, ci sta. Ci sta prendere un 60-40 life strategy? Assolutamente sì, è un modo. Io riesco ad avere più controllo, per motivi miei, riesco ad avere più controllo, e quindi poter scegliere quanto allocare in value, quanto allocare in growth, quanto allocare in bond di che tipo, perché non prenderli word, all maturity, non voglio bond a lunga maturity in questo momento. Quindi al momento, io al momento uso, quindi la prima domanda, ci sta, in effetti, sarebbe più semplice, ci può stare, non mi metto a farlo perché voglio controllo e perché svendere un milione di roba, ricomprare un milione di roba, magari rischio di lasciargli svariate centinaia, se non migliaia di fee, e non c'ho voglia. Io al momento uso Money Farm, e sono costretto ad utilizzare questo servizio, perché la mia ignoranza finanziaria non mi consente di navigare in solitaria. Per il futuro stavo giusto valutando di passare al life strategy, di passare i costi. Sì, fai benissimo, subito, 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 subito. Federico mi chiede, se il mio TER è più basso di un life strategy 60-40. Bella domanda. A parte che i life strategy 60 li ho visti solo domiciliati in UK. Non li ho trovati domiciliati in maniera interessante. Se vado just etf, andiamo sul etf screener, e cerco life strategy. Vediamo un po'. Life strategy 60, zoomiamo un po'. Che è anche USITs, accumulating o distributing, è 25%. A parte che ho domiciliati in Irlanda, c'è doppia imposizione fiscale, è irritante. C'è 0,25. Io e il mio attuale TER, dovrei fare una comparazione. Però volessi soltanto replicare, questa, volessi soltanto fare un 60-40, prendendo soltanto VT, e prendendo un all, non c'è un aumento un all bond. Questo qui, global agri, AGS, vediamo un po'. AGS etf. AGS ha un TER, a parte che life strategy non riesco a farlo currency hedged. Questo qui, se non sbaglio, ha un TER di 0,10. AGS ha un total expense rate di 0,10. e VT, Vanguard VT, che è il total stocks. Se andiamo su Vanguard VT, eccolo qui, a 0,08. Quindi, se li medi 60-40, siamo su 0,09. Quindi il mio TER è 0,09. volendo. Poi, con altri ETF che ho preso, c'è rischio che non sia 0,09. Però se volessi farmi il life strategy per conto mio, lo pagherei 0,09, invece che 0,25. Non avrei doppia imposizione fiscale, quindi i dividendi che mi dà VT, non ci pago il 15% di withholding tax persa all'America. e soprattutto avrei bond eggiati in Swiss franc. Quindi trovo che sia una soluzione migliore la mia, però è un po' più rognosa. Quindi se uno è alle prime armi, life strategy va benissimo, ragazzi. Se parliamo di un ETF che ha un TER di 0,25, va benissimo, è il tuo Moneyfarm. Moneyfarm ti chiede l'1% sopra agli ETF sottostanti, più IVA, credo. Non lo so, è tanto. Questo 0,25. Ciao, ciaoone, mille volte meglio.